La nostra vita è circondata da meraviglie e da mistero. L'immensità del silenzioso universo, la multiforme ricchezza delle creature, la bellezza delle opere d'arte e dell'ingegno umano. Che cos'è tutta questa vita? Il suo mistero, a volte così lontano e così vicino, ci sfugge. Ci sembra di poterlo intuire, ne avvertiamo la voce, il soffio, ma non riusciamo ad afferrarlo. I cristiani hanno riconosciuto nel crocifisso risorto la parola rivolta loro dal mistero e nello Spirito Santo il soffio di vita che lo anima. Se Gesù è il verbo pronunciato dal Padre che ci mostra il suo volto, lo Spirito Santo è l'artefice del nostro incontro con Lui. Lo Spirito è l'animatore e il santificatore della Chiesa, il suo respiro divino, il vento delle sue vele, il principio di unità di tutto ciò che esiste. Lo Spirito è il soffio del Dio vivente.